Dopo la clip precedente sulla storica missione Apollo 8, che ha visto per la prima volta gli esseri umani lasciare le vicinanze della Terra e mettersi in orbita lunare, la missione di oggi, Apollo 9, sembra insignificante, ma non è così. Si tratta infatti del primo test in orbita terrestre della prima astronave della storia, il LEM. Con Apollo 9 gli americani testano il LEM che, assieme a Saturn V, li porterà sulla Luna. E anche, molto più prosaicamente, una delle ultime missioni dove i nomi di LEM e Command Module sono dati dagli astronauti stessi. Si chiamano in questo caso Spider il Lunar Module e Gumdrop il Command Module, quindi ragnetto e gomma da masticare. Poi con Apollo 10 saranno Snoopy e Charlie Brown e dall'Apollo 11 invece il governo americano pretende che si faccia sul serio con i nomi e pretende nomi più istituzionali sono Eagle e Columbia. Il Saturn V accende in sequenza il primo, il secondo stadio e infine il terzo stadio dell'Apollo 9 e mette Command Module e Lunar Module in orbita. Poi il terzo stadio, con comando remoto, viene riacceso una seconda volta e viene immesso in orbita solare dove si trova tuttora. Ma veniamo allo scopo della missione Apollo 9, il Lunar Module. Non era pronto per Apollo 8, per cui è stato rimandato al 9 i test del Lunar Module. È la prima astronave della storia, dicevamo. È nata per andare dallo spazio allo spazio. Quindi ha pareti sottilissime, non ha sedili. L'Apollo 11 aveva addirittura proposto in un primo design di usare una corda con nodi intervallati al posto della famosa scaletta da cui è sceso. Armstrong è seguito da Aldrin. Il Lunar Module è il segreto del successo americano sulla Luna, eppure non era affatto scontato, perlomeno in un primo periodo. Inizialmente si è pensato ad un vettore enorme, il Nova, che facesse una direct action, ma perfino Von Braun ha dubbi e comunque non sarebbe stato fattibile entro gli anni 60. Il Nova sarebbe stato molto più grande del Saturno 5. Von Braun invece sostiene l'Earth Orbiter Rendezvous, dove 2 più Saturno 5 porterebbero in orbita in fasi successive il materiale per poi assemblare la caravana Apollo verso la missione lunale. Qui c'è una terza tesi, inizialmente scartata, di un comune ingegnere di Langley, Virginia, si tratta di John Hubble, che deve affrontare l'opinione contraria di un gigante come Von Braun e la violenta opposizione di Faget, che è un progettista delle capsule Mercury. Hubble scrive direttamente ai vertici NASA a un certo punto, con una lettera che inizia con Do we want to go on the moon or not? Von Braun alla fine cambia idea nel 1962 e supporta il Lunar Orbiter Rendezvous, in pratica quello che noi oggi conosciamo come il terzo stadio che porta in orbita il Command Module e il Lunar Module, poi il Command Module si stacca e si gira e estrae il Lunar Module, il terzo stadio a questo punto è libero e il Command Module con il Lunar Module si dirigono verso la Luna con una traiettoria alla Hochmann, si mette in orbita lunare, il Lunar Module si stacca, arriva sulla Luna, torna sul Command Module e poi la carovana Apollo torna verso la Terra. Ma torniamo a Hubble, Hubble si licenzia nel 1963 dalla NASA, ma nel 1969, nel luglio 69, Von Braun non si è dimenticato e chiama Hubble alla NASA, a Houston, durante l'alunaggio dell'Apollo 11 e a missione computer gli dice, thank you John, it was a good idea. Ed è così che nasce la storia dietro alla nascita del Lunar Module della Gramman. Comunque l'oggetto nonostante tutto massiccio, si tratta di 15 tonnellate di massa, ma molto meno di quello che sarebbe dovuto essere negli altri scenari. Shrekard, appena entrato in orbita, si sente male, ha il mal di spazio e vomita anche l'anima, ma poi si riprende. Lo vediamo qua sporgersi dal Command Module Gumdrop. Dopo aver agganciato e estratto il Lunar Module, Shrekard si trasferisce sul Lunar Module Spider, seguito da McDevitt. Provano il motore e dopo 9 ore tornano sul Command Module. Questo il primo giorno. Il secondo giorno Scott e Shrekard effettuano una doppia eva extravehicular activity, spettacolare. E il terzo giorno Shrekard e McDevitt tornano sul Lunar Module. Lo manovrano fino a ben 185 chilometri di distanza dal Command Module, poco più di 100 miglia di distanza dal Command Module. Poi dopo tornano, sganciano il modulo di discesa, quello con le zampe per intenderci, e si riagganciano. Poi il Lunar Module viene sganciato definitivamente e ha acceso il proposore di ascesa, per provarlo anche qua. Questa accensione del motore lo immette in un'orbita dove è rimasto per decenni, un'orbita molto ellittica, rientrerà in atmosfera nell'ottobre del 1981, pensate. Il Lunar Module a questo punto è testato, si tratta di una missione di tipo D. Il Saturn V, compreso il terzo stadio e il Command Module, sono stati provati anch'essi con le missioni di tipo C, le missioni precedenti. La Nasa a questo punto decide di saltare le missioni di tipo E, ovvero la prova dell'On-Lunar Module eventuale in orbita alta, intermedia fra la Terra e la Luna. E considera anche addirittura di saltare le missioni di tipo F, cioè la prova dell'Uno Modus in orbita lunare, ma poi cambia idea e decide di farla la missione di tipo F e questo sarà il compito dell'Apollo 10. Scott volerà ancora come comandante di Apollo 15, arrivando dal lunare nel 1971. Qua li vediamo tutti e tre, i nostri tre dell'Apollo 9, tutti e tre sulla porta aerei USS Guadalcanal, appena rientrati. E con questo è tutto per Apollo 9 e ci rivediamo con Apollo 10 e questa volta passo la palla a Ciro.